La provincia di Arezzo dopo 70 anni passa al centro-destra, un evento di portata storica che segue la conquista dei comuni più grandi come Montevarchi, Sansepolcro e Arezzo. Silvia Chiassai, sindaco di Montevarchi, è dunque il primo presidente donna di un ente che malgrado la menomazione degli ultimi anni continua ad avere funzioni non secondarie. Il guanto di sfida per la conquista tra due anni della regione toscana è dunque lanciato. 229 voti ottenuti da Ginetta Menchetti, candidata del centro-sinistra e sindaco di Civitella in Valdichiana, 186 per Silvia Chiassai. A decidere sono stati i voti ponderati. Menchetti ne ha totalizzati 42.827, Chiassai 43.511. Su 494 aventi diritto al voto, 425 gli elettori che hanno partecipato alle elezioni, un'affluenza dunque dell'86,03%. Ricordiamo che quelle provinciali sono elezioni di tipo indiretto. Vediamo anche chi passa in consiglio provinciale. Per la lista Comuni per la provincia di centro-destra è il più votato Federico Scapecchi con 8.554 voti ponderati, seguito da Alessandro Givi in Quota Lega che dunque entra in consiglio. Eletti anche Angelino Piomboni, Ezio Lucacci, Rosaria Migliore e Laura Seghi. Per il centro-sinistra il più votato Donato Caporali con 7.021 voti ponderati, seguito da Gabriele Corei, Alessandro Caneschi, Eleonora Ducci, Leonardo Ciarponi e Cristina Ermini. Il presidente della provincia di Arezzo rimarrà in carica per quattro anni, mentre i 12 consiglieri rimarranno in carica per due anni.